Un nuovo servizio presso la cooperativa fra segnatari Sasso a partire dal 4 aprile, data in cui sarà istituito lo sportello per i contribuenti del Consorzio di Bonifica Litorale Nord. Gli associati potranno recarsi presso le due casette nel comune di Cerveteri per avere informazioni sulle bollette e delucidazioni in merito al Consorzio di Bonifica, l'ente che tutela il territorio e la pulizia di fossi e canali per garantire sicurezza agli associati. Un servizio molto utile ai cittadini che se avranno cose da chiedere lo potranno fare senza recarsi altrove, ma a due casette in piazza Nazareno Pagliuca ogni primo e terzo giovedì del mese dalle 8.30 alle 12.30 a partire dal 4 aprile.